ben ritrovati amici del pianeta palla a mano parte la puntata settimanale dedicata all'embol tutto ciò che è stato palla a mano su tutti i parquet o gommati di tutti i campionati italiani allora ovviamente lo anticipiamo per poi gestire al meglio i nostri spazi e gli impegni di Enrico Milano che mi segue a cui do il ben ritrovato dal remoto nello studio del canale novantasei ringrazio Paolo Caselli che nel weekend mano mano ha contribuito con me a scrivere il testuale di a tutto Enbol già presente in anticipo come ormai sapete sul sulla programmazione di Firenze Viola Supersport Live punto it punto com c'è il pianeta eh a tutto Enbol per cui lo potete tranquillamente leggere quella è l'edizione scritta e questa è l'edizione che poi quando mi vedrete sarà martedì intorno alle ore venti dunque ben ritrovato dalla redazione di Firenze Viola Supersport e da Stefano Ballerini andiamo immediatamente a vedere ciò che ci ha lasciato lo lo scorso weekend allora qualificazioni e HF i campionati europei duemilaventisei l'Italia è stata inserita nel gruppo quattro con Spagna Serbia e Lettonia Spagna e Serbia abbastanza distanti con la Lettonia come abbiamo già fatto vedere ce la potremo giocare dunque saranno Spagna Serbia Lettonia le avversarie dell'Italia nel gruppo quattro di qualificazione agli euro duemilaventisei in programma tra Danimarca Norvegia e Svezia a stabilire le avversarie degli azzurri è stato il sorteggio svoltosi giovedì a Copenhagen all'esito del quale è stato poi definito il percorso delle trentadue formazioni europee coinvolte sulla strada che condurrà alle finali della manifestazione continentale per gli azzurri sorteggio tutt'altro che agevole lo avevo detto leggendo il titolo dunque sulla strada che ci condurrà che ci dovrebbe poter condurre ai prossimi campionati europei gli iberici allenati da Giordi Ribera che non hanno bisogno di presentazione dopo un euro duemilaventiquattro sotto le aspettative la selezione spagnola vincitrice del titolo continentale nel duemilaventiciotto e duemilaventici ha reagito conquistando l'accesso ai giochi olimpici anche la Serbia rappresenta un'avversaria di grande tradizione nonostante il diciannovesimo posto agli ultimi europei condizionato da un percorso singolare nella fase preliminare 27 27 contro l'Islanda e sconfitta di misura contro Montenegro e Umeria più abbordabile come detto la conosco la Lettonia davanti alla quale gli azzurri si sono piazzati nelle ultime due tornate di qualificazioni agli europei la formula rimane quella nota gli appassionati addetti ai lavori si qualificano in primis le prime due di ciascun girone disponibili poi altri quattro posti spettanti alle migliori terze individuate attraverso una speciale classifica che terrà conto dei soli risultati ottenuti contro le squadre dello stesso gruppo che si piazzano al primo o al secondo posto la composizione di tutti i girò carta e penna gruppo 1 slovenia nord macedonia lituania estonia gruppo 2 ungheria montenebro slovacchia finlandia gruppo 3 islanda grecia bosnia erzegovina georgia gruppo 4 come detto spagna serbia italia e lettonia gruppo 5 croazia repubblica ceca belgio e lussemburgo gruppo 6 olanda isole faroe ucraina kosovo gruppo 7 germania austria svizzera e turchia gruppo 8 portogallo polonia romania e israele le gare di qualificazioni si svolgeranno in tre periodi posizionati nel calendario della prossima stagione per quando l'italia secondo i seguenti abbinamenti allora anche qui se volete andare prenotate in largo anticipo round numero 1 6 7 novembre 2024 cominciamo dalla spagna italia round 2 9 10 novembre italia serbia round 3 12 e 13 marzo 2025 qui lettonia italia round 4 15 16 marzo 2025 italia lettonia il round numero 5 7 8 maggio 2025 italia spagna round numero 6 11 maggio 2025 serbia italia grazie al collega luigi cano per la foto credit che c'è stata concessa andiamo al reparto femminile le qualificazioni per gli europei 2024 convocate 19 azzurre per le sfide contro francia e slovenia raduno a chiedi alla casa della pallamano il 28 marzo fra due tre giorni per quanto riguarda a oggi sarebbero tre domani sarebbero due quando voi vedete il servizio sul canale 96 alternanza azzurra in abruzzo chiuso il periodo dedicato alla nazionale maschile alla casa della pallamano è di nuovo il momento dell'italia al femminile dal 28 marzo le azzurre si ritroveranno a chiedi per preparare le ultime due sfide del gruppo 4 di qualificazione agli euro 2024 il 3 aprile sempre al centro tecnico federale ore 18 la nazionale affronterà le campionesse olimpiche mondiali della francia match improvissimo se mi è concesso il termine per poi chiudere il 7 di aprile il suo cammino a lubiana contro la slovenia la formazione allenata dal direttore tecnico giuseppe tedesco che saluto e reduce dalle due nette vittorie a spese della lettonia ottenuti a inizio mese 32 14 43 a 8 fondamentali per blindare il terzo posto e rimanere in corsa perciò per la qualificazione la formula però impone un ulteriore step fare i punti con una tra francia e slovenia per provare a rientrare tra le quattro migliori terze alle quali il regolamento attribuisce un pass per la manifestazione continentale del due del dicembre prossimo organizzata in austria ungheria e svizzera a disposizione dello staff tecnico azzurro 19 atlete rientra importanti rispetto alle assenze contro la lettonia tornano il capitano ilaria dalla costa sempre nella batteria dei terzini bevelin e ghirua e vanessa di ogap tra le mancine c'è luisella podda che nel precedente stage aveva dovuto rinunciare a scendere in campo per problemi fisici in lista c'è anche giulia la ita una 2004 già punto fermo delle selezioni giovanili primo allenamento la sera del 28 marzo lavoro che proseguirà fino a triapine quando con ingresso libero alla casa della pallamano arriveranno le stede della francia per un match davvero proibitivo ma da grande fascino poi trasferimento a lubiana il qui il 5 di aprile dopo due giorni il match con la slovenia le convocate a chietti portieri luchin brixen su tirol cabrini vanplast dosso buono nila bertolino cassano magnago le ali giulia gozzi cassano magnago giulia rosso mando giomi salerno luisella podda cassadulare pontinia giulia losio lifestyle erice terzini e centrali l'aria dalla costa giomi salerno bevelin enghia ruga brixen su tirol ramona manoliovic lifestyle erice so sofia ghilardi gioca in francia nelle avre serena e ghirua cellini padova bianca barbosu gioca nel cassano magnago giulia laita come detto anche lei giovanissima 2004 cassano magnago lisa ponti cassano magnago vanessa di ogap anche lei gioca in francia nelle avre i pivò sono aurora gislin verti giomi salerno eleonora colloredo cassadulare pontina lucilla maria stetter cassa rurale pontina giuseppe tedesco ed elena barani vice allenatrice con lo staff medico michela michele carubia federico di santo fisioterapista c'è un filmato nel pezzo che è pubblicato nella nostra attestata a cura di fig.it io allora prendo qualche brevissimo istante passo la linea a enrico milano che ve lo carica e ve lo fa sentire tornate rimanete con noi torniamo fra due minuti circa c'è tutto della nostra nazionale in questa partita perché c'è stata la capacità di incassare nel primo tempo l'esfuriata del belgio avere pazienza sfruttare le rotazioni l'avvicendamento tra ebner e colleluori per esempio quindi avere tanti protagonisti diversi lo spirito e poi un cuore azzurro unico col pubblico di pescara hai detto tutto bellissimo come hai detto tu l'inizio è stato molto difficile noi sapevamo che il belgio potesse fare dei break però l'ha fatto subito ha corso tanto noi non riuscivamo a correre bene con con il cambio di marrocchi abbiamo un po sistemato le cose poi ci siamo ripresi nel gioco veloce nel primo tempo per fortuna nel secondo tempo è stato troppo importante il ritorno ad altri livelli di colleluori che ha portato avanti una buona una buona partita di tutti e voglio sottolineare che era difficile perché a livello caratteriale psicologico bisognava conquistare ancora qualcosa e i quattro gol dell'andata potevano non essere un grande vantaggio e poi si anche va detto che questa nazionale è una nazionale che ha sempre dovuto dimostrare di crescere di qualche modo percorrere un gradino in più oggi dovevamo gestire invece quello che avevamo costruito mercoledì scorso tu avevi detto giustamente dobbiamo andare sempre al 100% perché abbiamo le possibilità per farlo però dovevamo anche giocare non era facile esatto sì in questo ragazzi hanno dimostrato un grande carattere perché per poter vincere queste partite tese saper percorrere non è così facile non sai mai se devi gestire il risultato oppure spingere ancora direi che soprattutto da punto di vista caratteriale voglio elogiare tutti quanti i ragazzi voglio sottolineare che il commissario prima della partita ha detto ho visto la partita in belgio un miracolo dovevamo vincere anche questa partita nell'ultimo time out abbiamo voluto proprio far sì che portassimo a casa la vittoria non solo la qualificazione Montenegro è lecito sognare ma noi siamo come hai detto tu c'è una grande rotazione da poter fare quindi non temiamo i cali di qualche giocatore giochiamo bene in corsa in seconda fase dobbiamo sempre avere un'altissima situazione in difesa e quindi possiamo sognare sapevamo che non sarebbe stato facile comunque dobbiamo pensare che belgio due anni fa ha partecipato al mondiale e i nel ranking sono davanti a noi quindi è stata una partita dura lo sapevamo sapevamo che loro veniamo qua senza niente da perdere e ci hanno dato più da torcere e devo fare veramente un applauso a tutti i ragazzi che di solito magari giocano un po' meno come i balli come con le luori perché hanno saputo magari in una giornata no tipo mia o di o di Ebner così hanno saputo prendere tranquillamente il loro ruolo la cosa conferma ancora di più che questa squadra a 16 ragazzi che possono giocare tutti quanti quindi felicissimo per loro felicissimo per le prove di De Angelis e Bortoli che tornava in nazionale dopo il lungo infortunio penso che in questa settimana ci sia solo del del positivo ci sono ovviamente cose a correggere e sapendo anche delle delle prestazioni magari non al cento per cento di diversi giocatori la cosa ci può ancora più sperare per per il futuro adesso ci aspetta il Montenegro a maggio sarà tostissima e però siamo andati un step più avanti che l'ultima volta quindi ancora qualcosa di positivo da tenere in questa settimana adesso aspettiamoci a maggio due grandi battaglie dobbiamo partire dalla tua partita Andrea perché intanto non era una partita come le altre giocavi davanti al tuo pubblico alla tua gente alla gente della tua regione e poi hai questa grande capacità di farti trovare pronto giochi assieme ad un grande portiere come Domenico Ebner ma hai questa capacità di farti trovare pronto di rispondere sempre presente in azzurro e questa è una grande dote ci sono contentissimo del più che della mia prestazione della partita che abbiamo fatto tutti quanti e del passaggio del turno davanti a al palazzetto di Pescara che è un po la è la mia terra d'origine e sono contentissimo di aver fatto una buona partita e di aver riutato di aver riutato la squadra io avevo le cuffie però si sentiva qualche decibel in più quando parava con le luori si si vedeva qualche amico dagli spalti intanto arriva un grande risultato perché in termini di squadra ci qualifichiamo a questo ultimo turno e dimostriamo un ulteriore step di crescita un altro step di crescita non era facile andare a vincere in Belgio non era nemmeno facile poi ripartire da quel più 4 questa sera perché loro erano partiti forti all'inizio della partita col coltello tra i denti volevano rimetterla in piedi voi avete accelerato nell'inizio del secondo tempo assolutamente sì in Belgio abbiamo abbiamo vinto di 4 ma sapevamo che in Italia sarebbe partita la partita sarebbe partita da 0 a 0 e siamo stati bravi a rimontarla al primo tempo e poi alla fine l'abbiamo staccati e per la panamana italiana penso sia un obiettivo grandissimo arrivare al terzo turno adesso c'è il montenegro un'avversaria tosta lo sappiamo ma queste due partite hanno dimostrato che l'Italia ha tutto il diritto di sognare si è visto soprattutto quanto sia cresciuta la squadra e siamo convinti che possiamo fare un un ottimo terzo turno daremo tutto quello che possiamo perché sarà l'ultimo prima delle qualificazioni e io sono consapevole che possiamo fare grandi cose con questa squadra noi l'aspettavamo tanto un Thomas Bortoli così perché un Thomas Bortoli è un talento cristallino della palla a mano italiana e penso che volessi anche tu due partite perché anche quella in Belgio è stata un'eccellente prestazione da parte tua così come questa con questa presenza in mezzo al campo in attacco hai segnato tanto ma anche in difesa da primo difensore tanti sfondamenti portati a casa palle recuperate insomma l'infortunio ce lo lasciamo alle spalle sicuramente sono contentissimo della prestazione che ho fatto in primis però sono molto contento della prestazione di squadra quello viene prima di tutto e mi fa mi fa molto bene ecco queste queste due prestazioni fanno molto bene perché arrivo da un infortunio quindi possono essere come un trampolino di lancio ecco quindi sì sono sono molto felice adesso cercherò di andare avanti così il la tua ultima apparizione la tua ultima presenza era stata in quel pomeriggio amaro almeno in casa in quel pomeriggio amaro di Vigevano dove c'eravamo avvicinati tanto a quella Polonia adesso arrivano queste due vittorie tre consecutive considerando quella contro la Turchia sono degli step di crescita importanti sì sicuramente tre vittorie di fila fanno molto bene al movimento adesso cerchiamo di prolungare questa questa striscia contro il Montenegro non sarà facile però daremo il massimo ed è una nazionale che ha dimostrato di non avere paura di nessuno di avere di saper giocare a palla a mano e quindi di volersela giocare a viso aperto anche contro una squadra molto forte come il Montenegro sì sicuramente in primis rispettiamo tutte le squadre contro cui andiamo però entriamo in campo senza la paura entriamo in campo sapendo di dove dare il cento per cento ed è questo che ci caratterizza non molliamo mai lottiamo fino alla fine penso che si sia visto in queste due partite la percezione per chi come noi racconta questa nazionale e che ci si sia creato in generale a prescindere dal luogo in cui si gioca un legame speciale con il pubblico della palla a mano questa nazionale particolarmente amata non so se voi percepite lo stesso calore attorno a voi quando si gioca in casa sì sicuramente già dall'ultima che avevo fatto a Vigevano si è visto molto e si vede anche tuttora all'apporto del pubblico siamo molto felici di questo sono l'ottavo uomo in campo possiamo dire grazie a questo anche siamo spinti per dare il massimo e per arrivare alla vittoria e allora intanto avrà provveduto Enrico Milano a caricarvi a farvi sentire il servizio messo da fig.it a cui rinnovo i saluti e ringraziamenti per tutto ciò che ci concede di fare la formula il meccanismo di accesso a Euro 2024 prevede 20 posti con i primi 16 spettanti alle squadre che chiuderanno al primo e secondo posto nei rispettivi girone i rimanenti quattro invece saranno assegnate alle migliori terze qualificate questo perché l'Italia dovrebbe riuscire a fare punti contro la Lettonia e concorrere per appunto classificarsi nelle migliori terze qualificate stabilite tramite una gradatoria che terrà conto dei soldi risultati ottenuti contro le prime due squadre del proprio gruppo per cui le classifica giornate dopo le prime quattro giornate carta e penna anche qui gruppo 1 Romania 8 Croazia 4 Grecia 4 Bosnia Herzegovina 0 gruppo 2 Germania 6 una partita in meno Ucraina 6 Slovacchia 2 Israele 0 una gara in meno gruppo 3 Olanda 8 Repubblica Ceca 4 Portogallo 4 Finlandia 0 gruppo 4 Francia 8 Slovenia 4 Italia 4 Lettonia 0 dobbiamo cercare perlomeno di battere o fare punti contro la Slovenia con la Francia sarà matematicamente impossibile con la Slovenia un tentativo lo possiamo fare gruppo 5 Spagna 8 Nord e Macedonia 4 Lituania 2 Azerbaijan 2 gruppo 6 Montenegro 8 Turchia 5 Serbia 3 Bulgaria 0 gruppo 7 Svezia 8 Svezia 8 Islanda 4 Isola e Faro 4 Lussemburgo 0 gruppo 8 Danimarca 8 Polonia 0 Kosovo 0 e dunque questa è la situazione la FIG ci dà anche grazie la situazione per ora delle terze classificate nel gruppo 1 Grecia 0 punti differenza reti meno 22 gruppo 2 Slovacchia 0 differenza reti meno 41 gruppo 3 Portogallo 0 differenza reti meno 15 gruppo 4 Italia 0 punti differenza reti meno 47 gruppo 5 Lituania 0 differenza reti meno 36 gruppo 6 Serbia 1 differenza reti meno 2 gruppo 7 Isola e Faro 0 punti differenza reti meno 22 gruppo 8 Polonia 0 differenza reti meno 12 Kosovo 0 differenza reti meno 42 gruppo 48 Andiamo a ricorda reti meno 48 Andiamo a ricordarvi qual è il cammino delle gare giocate di quelle che si giocheranno Allora il girone gruppo 4 è cominciato l'11 ottobre Francia Italia tanto a poco 50 a 16 Il 15 ottobre a Chieti Italia Slovenia 18 31 il 29 febbraio a Dobele Lettonia Italia 14 32 3 marzo a Chieti Italia Lettonia 43 a 8 il 3 aprile come detto tra pochi giorni periodo pasquale il 18 a Chieti Italia Francia il 7 aprile a Ljubljana Slovenia Italia e dunque questo è quello che ci attende Le squadre già qualificate sono le campioni in carica della Norvegia le nazioni ospitanti del triptico Austria Ungheria e Svizzera dalle qualificazioni Romania Olanda Francia Spagna Montenegro Svezia e Danimarca grazie alla fotocredit di Fabrizia Petrini E andiamo a vedere invece quelle che sono stati i risultati dei nostri campionati nessuna parlo della 1 serie A gold nessuna sorpresa nella ventunesima giornata di serie A gold che è tornato dopo la pausa azzurra il massimo campionato registra l'affermazione di tutte le nostre big designate dalla classifica i valori non mutano Brixen rimane in vetta Fasano è ancora la prima inseguitrice Alperia Black Davis e Conversano rimangono le altre due pretendenti per le semifinali ma ancora nulla è detto L'unico dato numerico da aggiornare relativo alla spaccatura tra una metà della gradatoria e l'altra divenuta adesso di ben 12 punti un valore non più colmabile considerando le sole 5 giornate da giocare prima di chiudere la regola season Allora nel pezzo scritto di Firenze Viola Supersport Live.it.com c'è 5 6 righe a commento messe dalla fig.it che ringrazio ve le potete andare assolutamente a leggere non voglio tediati più di tanto Vi do solamente i risultati dell'ultimo turno e la classifica Spare Reppan di Appiano Raimo Nego Sassari 28 33 Bozzano Secche Rubiera 36 27 Pressano Cassano Magnago 30 33 Conversano Carpi 37 28 Brixen Albatro Siracusa 32 24 Alperia Black Devils Makaji Cingoli 34 a 33 di un sol punto Trieste Fasano 23 27 Accanto come lo sapete ormai mi fido di voi accanto ad ogni risultato c'è il tastino download Se qualcuno ha un suo giocatore se volete divertirvi a trovare i migliori marcatori i tabellini di tutte le partite pigiate i relativi tastini Vi si apre immediatamente la taburazione di ogni partita La classifica aggiornata meno 5 dal termine De Brixen o Bressanone 36 Fasano 35 Alperia Black Devils 32 Conversano 31 Bozzano 30 Cassano Magnago 28 Raimo Nego Sassari 27 Spare Reppan di Appiano 15 Albatro di Siracusa 14 Cingoli 12 Trieste 12 Pressano 9 Secche Rubiera 7 Carpi 6 Andiamo ringraziamo sempre Luigi Cano per la foto credit Serie 1 femminile alla sosta con Salerno in fuga adesso più 3 in testa mentre Erice riesce a vincere a Pontinia E allora anche qui i titoli del pezzo di fighe punto it la serie a uno dice ancora Giovi Salerno primo posto ma soprattutto vantaggio diventato adesso di 3 punti sulle campane al secondo posto Tornato intanto ad essere una location davvero affollata la diciannovesima giornata segna il successo esterno di Staileric sul campo di Pontinia I due scontri ad alta quota hanno anche altro effetto il ritorno di Cassano Magnago tra le prime 4 a 25 punti in coabitazione con il Brixen su Tirol In coda gioia per le venete del Cellini Padova nel derby Veneto vinto con Venplast Dossobuona Posticipato al 13 di aprile la sfida tra Teramo e Casa Grande Padana anche qui c'è un po' di commento dall'ufficio stampa di fighe punto it che saluto e che ringrazio Allora i risultati Pontinia Erice 31-34 Cassano Magnago Mezzocorona 31-25 Salerno Brixen su Tirol 32-24 Cellini Padova Dossobuono 26-24 il 13 aprile Imposticipo Teramo Casa Grande Padana La classifica Giomi Salerno 30 tre punti come detto su Erice a 27 Castadulare Pontinia anch'essa a 27 Brixen su Tirol 25 per cui le prime 4 sono ancora in gado Anzi le prime 5 con Cassano Magnago anch'essa a 25 Casa Grande Padana 20 meno una gara Teramo 14 meno una gara Dossobuono 9 Cellini Padova 6 mezzo Corona 5 Lion Sassari Zero andiamo a vedere ancora grazie al collega Luigi Cano per la fotocredit Serie A Silver definite le otto qualificate ai playoff Promozioni E allora con tre turni di anticipo le prime otto squadre che parteciperanno ai playoff per la serie A Silver Sono già state determinate in coda Camerano, San Lazzaro, San Giorgio Sulmonteno, Chiara Valle, Romagna, Genea Lanzara, Orlando Enna, Metelli, Cologne Che si giocheranno i due posti in palio per il ritorno per qualcuno in serie A Gold Allora anche qui commenti qualche riga Io vado a darvi i risultati che ufficializzano le prime otto Metelli, Cologne, Cus Palermo 33, 27 Campus Italia, Romagna 21, 31 Camerano, Orlando, Enna 32, 24 Teramo, Verdeazzurro, Sassari 24, 24 San Lazzaro, Genea Lanzara 28, 20 San Giorgio Moltena, Chiara Valle 27, 29 Di cui la classifica aggiornata Camerano 35, San Lazzaro 27, Chiara Valle 26, San Giorgio Molteno 24, Romagna 24, Metelli, Cologne 20 Genea Lanzara 20, Orlando Enna 20, Verdeazzurro, Sassari 13 Campus Italia 8, Cus Palermo 6, Lions Teramo 5 Riccardo Trilini, una partita dai due volti I primi 20 minuti con il Campus avanti anche di 6 Poi quel break di 12 a 0 che poi è diventato di 17 a 1 Che vi ha completamente tagliato le gambe Un break così non si può subire Neanche se dai dei ragazzi di 12 anni Perché bisogna avere anche il carattere per giocare a palla a mano Non essere solo bravi Questa è la più brutta partita che abbiamo fatto Sono molto arrabbiato perché nessuno può permettersi di aver paura di sbagliare E di gestire le palle con tanta sufficienza Perché abbiamo una rosa ampia Tutti possono giocare per cui nessuno è indispensabile Non può essere che a un certo momento ti viene la paura di sbagliare Nessuno ci dice niente Se non vinciamo una partita o un campionato Figuriamoci Questo mi preoccupa perché ci sono due giocatori fondamentali dal punto di vista caratteriali Come li sostituisco si gioca per scherzo Oggi questa non è bella per niente questa sconfitta Perché non serve niente anzi Un buon approccio alla partita Quei primi 20 minuti poi si è spenta praticamente la luce Insomma questa è una situazione che analizzerete sicuramente nel dettaglio Nel corso anche dei prossimi giorni Ho detto ai ragazzi che gli conviene questa volta fare loro l'analisi video Perché voglio che ogni secondo della partita voglio che siano consapevoli di quello che è successo Altrimenti non crescono con due o tre riunioni dove l'allenatore dice cosa non è Devono viverla se vogliono crescere Non è stata una partita dai due volti Perché oggi secondo me noi eravamo più forti Quando correvamo non poteva il Romagna starci dietro Era da chiudere la partita Per questo il rammarico è ancora più forte Noi arriviamo qua sapendo che il campo Ha giocato molta partita buona contro oltre squadra E sappiamo che questa partita c'era molto difficile Adesso per noi questa vittoria è molto importante Primi venti minuti in cui avete avuto grosse difficoltà contro il campus Poi come è riuscito a rimettere su questa sfida? Noi abbiamo lavorato varie situazioni di gioco Per contrarrestare un po' la difesa di loro La prima azione è che noi abbiamo provato a giocare uno contro uno contro la sua centrale difensiva Dopo abbiamo cercato un'altra azione di giocare con doppio pivot Come abbiamo giocato Loro fanno fatica un po' Abbiamo recupero dei goli in punteggio E per noi fino alla fine abbiamo conseguito andare a spogliatore uno avanti nel punteggio Come intente gestire questo periodo che vi separa dai playoff Dalle gare che conteranno Insomma le ultime tre giornate di campionato Noi continuiamo lavorando come all'inizio Per provare a vincere tutto E continuare migliorando un po' Dopo non vogliamo pensare in un posto specifico della classifica Dove dobbiamo stare E' buono E giocchiamo e continuiamo Adesso mancano tre partite molto difficili Lanzara, Palermo e Aena Vediamo come va tutto Rotaro arrivano due punti importanti per la classifica del Romagna Perché al di là di un'acquisizione dei playoff Che già è acclarata E' certa però c'è da conquistare la migliore posizione nella grilla di partenza Sì sicuramente arrivare tra le prime quattro è il nostro obiettivo Così abbiamo eventuale gara tre in casa Quello ci dà un ottimo vantaggio Quindi aspettiamo i risultati di stasera delle altre squadre Vediamo come vanno le prossime partite Ma oggi sono due punti fondamentali Una gara da due volte Cosa vi era successo in quei primi venti minuti di gioco? Secondo me abbiamo sottovalutato la partita Io in spogliatoio con i ragazzi Ho provato a farlo in modo che non succeda Però siamo partiti scarichi Un po' deboli su uno contro uno In difesa un po' concentrati Dopo l'orgoglio ha preso il sopravvento E siamo riusciti a rimetterla in piedi 12-0 e poi 17-1 totale di parziale Non è cosa da tutti i giorni comunque No 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 infatti Io sono convinto che la nostra squadra Abbia grandissime potenzialità Quello che ci frena poi alla fine siamo sempre noi La testa che mettiamo in campo durante la partita Oggi si è visto abbiamo fatto 15 minuti Una squadra, 45 e un'altra Sì primi venti minuti abbiamo giocato molto bene Abbiamo corso bene Abbiamo giocato molto velocità Infatti si è visto il punteggio che eravamo 6 sopra E poi essendo tutti ragazzi giovani Abbiamo fatto andare mentalmente la partita Dove loro sono più grandi Esperti Dove hanno recuperato il primo tempo a finire 13-12 Là siamo entrati al secondo tempo Con la mentalità di recuperare Però questa mentalità fa sbagliare di più Perché hai paura di sbagliare i tiri E questa cosa ci ha effetto tantissimo Che sbagliamo di più Facciamo sbagliare di più Sicuramente una situazione che analizzerete nel dettaglio Nei prossimi giorni Insomma anche in seduta Anche con il tecnico Che è parso molto deluso Diciamo da questo risultato Sì è molto deluso Perché eravamo 6 sobra E poi andare in meno 10-11 Comunque non è molto Cioè è successo pochissime volte Quindi già lui ha detto Di vedere le partite Di analizzare tutti gli errori Che richiederà sicuramente lunedì A riunioni Insomma poi dal lunedì Ricomincia tutto da capo Perperiamo benissimo Per la prossima partita Andiamo alla pool promozione Con i successi di Belluno su Masca Lucia 45-29 Monte Prandone E Bologna United A sorpresissima 30-30 San Vito Marano Pallamano Prato 33-26 La classifica Bologna 5 San Vito 4 Marano Poi Pallamano Belluno 4 Pallamano Monteprandone Tre Masca Lucia 2 Pallamano Prato Purtroppo Zero La pool e retrocessione Dove va male L'inizio della fase A orologio La pallamano Tavarnelle Era in trasfetta Sul campo più difficile Del gruppo Il Modena Già battuto Nel giorno Dell'inaugurazione Del nuovo palazzetto Dello sport Località Bustecca A Tavarnelle Purtroppo Pur Gara risicata E' una sconfitta Pesante Che obbliga Il Tavarnelle Ad accelerare Sin dal prossimo Match interno Il Tavarnelle Va a perdere A Modena 29-27 Laddove la si potrebbe Nel girone di ritorno Rimettere a posto Primo tempo 13-10 Modena Con Prandi Carretti Tra i pali Stallo 3 Baccarani 8 Di Pugliese 4 Di Gollini 3 Di Boni Morselli 5 Di Valle Bernardi 3 Di Pollastri Dall'Olio Gualtieri Vaccari 3 Bruni Serafini Allenatore Malagori Rigori 5 su 8 Tavarnelle Che mette Un gol di Gelicic Non so se è segnato Col portiere a tutto avanti O con un tiro da porta a porta Non meranno ancora scritto Comunque Gelicic 1 E Ciani Il secondo portiere 8 Di Borgiani 1 Dell'Anderissimo Beniva Vermindi 4 Vazzani Sing 3 Di Muffini 3 Di Riccardi Bevanati 0 Nardi 3 Barbarito 1 Silei 1 La triade Di Raia Raia Graziosi E Mori 2 su 3 I rigori Tavarnelle Con Spallanzani Casagrante Marconi 29 29 Un pareggio Che fa bene Al Tavarnelle Follonica Battuta A sorpresa Pesantemente Tra le mure Amica Dal Dertona 27 35 Pallamano Modena Tavarnelle 29 27 Dertona Modena Hanno due punti Spallanzani E Marconi Jumpers Ne hanno uno Tavarnelle E Follonica Ne hanno Purtroppo 0 La I play out A due Femminile Fase Ad orologio Flavioni Civitavecchia Lifestyle Erice 22 24 Aretusa Conversano 24 21 Alicada Gattopardo Pallamano Mugello Euromed 21 27 Le Borghigiane Passano Col più 6 Sul campo Del Gattopardo La classifica Aretusa Aretusa Erice 6 Flavioni Civitavecchia Sorpresa 4 Pallamano Mugello 2 Conversano 0 Pallamano Alicada Gattopardo 0 La serie B Maschile E' Ferma Riprenderà Dopopasqua Vi ricordo Solo L'ultimo Turno Del 13 Di marzo Scorso Che vide Carranese Olympic Massa 35 24 Medici A Monte Carlo 31 18 Mugello United Grosseto Di un Sol gol 31 A 30 Riposato Il Tavarnelle Grosseto 16 Medici Appoggia Cagliano 13 Olympic Massa Marittima 12 Mugello United 12 Carrarese 9 Monte Carlo 6 Tavarnelle Con 4 punti Ma Una Partita In meno Allora Questa è la storia Di tutto L'ultimo Turno Dei campionati Di palla a mano Dalle notizie Azzurre Fino all'ultimo Dei nostri Campionato Con La Notazione Di come ci siamo Lasciati nel Campionato Di serie B Stefano Ballerini Vi ringrazia Ringrazia Paolo Caselli Che con me Ha contribuito A scrivervi In testuale La puntata Che trovate Già su www Firenze Viola Supersport Live Punto It Punto Com Ringrazio Enrico Milano Che mi prende Da questa registrazione Di lunedì Che io termino Alle 16 E 59 Vi monta la trasmissione E ve la fa Rivedere Quando mi sentirete E mi vedrete Sarà martedì Verso Le 8 E mezzo Grazie Viva la palla a mano Viva l'handball Forza Tavarnelli E la linea Ai nostri studi Del canale 96 Vanta 6 Qui Viva l'handball Viva l'handball